Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento che vuole raccontarvi tutto quello che accade nella nostra regione e qualche volta andiamo anche fuori dai nostri confini. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una Sicilia che non vuole essere più la cenerentola d'Europa ma che attraverso l'innovazione e la ricerca vuole spiccare il balzo e diventare una bellissima potenza imprenditoriale. Per parlare di innovazione e ricerca e di attività produttive abbiamo nostro credito ospite il dottor Carmelo Frittitta, direttore generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana. Dottor Frittitta ho correttamente elencato il suo titolo, il suo ruolo, la cosa funziona. Perfetto, allora la prima domanda, innovazione e ricerca sembrano quasi due frasi magiche ma in realtà in che cosa si sostanziano concretamente per fare in modo che le attività produttive in Sicilia possono veramente esplodere tutta la loro potenzialità? Sì, noi, buonasera a tutti, l'innovazione e la ricerca costituiscono leve per far accrescere la competitività delle imprese siciliane. È un tema importante, centrale nelle politiche di sviluppo della nostra terra ma accanto all'internazionalizzazione delle imprese costituiscono le due leve fondamentali. Lo dimostrano alcuni dati, ce ne dà conferma anche la resilienza di quelle imprese che continuano a investire, a innovare, introducendo innovazione di prodotto, innovazione di processo nei propri processi produttivi e che anche rispetto ai recenti eventi pandemici prima e del conflitto russo-ucranio dopo hanno mostrato maggiore resilienza rispetto a chi invece continua a produrre in maniera tradizionale. Per avvicinare il mondo delle imprese al settore della ricerca e dell'innovazione occorre fare degli investimenti. Sono investimenti che spesso le nostre imprese che si caratterizzano per una dimensione medio-piccola, in alcuni casi addirittura micro, non riescono a sostenere da sole. E qui entra in campo la regione siciliana con gli strumenti finanziari regionali ed europei? Certamente sì, perché sono degli asset, degli obiettivi strategici, con la nuova programmazione saranno così definiti, rispetto ai quali la Commissione europea ci sprona ad investire sempre maggiori risorse. Già nel 14-20, nella fase programmatica che stiamo chiudendo, a dicembre chiuderemo, abbiamo investito più di 200 milioni di euro solo nell'ambito del programma FESDRE per progetti di ricerca in partenariato, dove accanto all'organismo pubblico o privato di ricerca stava l'impresa che aveva una buona idea da sviluppare a livello o prototipale o in alcuni casi abbiamo anche sviluppato nuovi processi pronti per essere industrializzati. Ecco l'obiettivo degli investimenti. Quindi mi perdoni dottor Fittita se non ho capito male, voi accompagnate le imprese che hanno delle buone idee innovative, le accompagnate magari con dei partner di ricerca per fare in modo che le loro idee diventino concrete. Esattamente, corretto. Noi finanziamo progetti che si costruiscono dall'incontro, che nascono dall'incontro del soggetto che è capace di sviluppare una ricerca in tutti gli ambiti, poi parleremo anche di quali sono gli ambiti principali di investimento in Sicilia e le imprese. Spesso le imprese hanno la necessità di sviluppare un nuovo prodotto e soprattutto di fare una ricerca applicata, quindi una ricerca che porta a risultati tangibili già pronti per essere industrializzati ma non ha le risorse sufficienti perché la ricerca costa, costa soprattutto in termini di impiego di risorse umane. Noi finanziamo questo tipo di progetti e li finanziamo sulla base del merito, sulla base della proposta. Devo dire che negli ultimi anni le università siciliane si sono contraddistinte per una grande attività in questo settore, in questo senso, cioè hanno accompagnato almeno l'80% dei progetti finanziati dalla regione siciliana, sono progetti che nascono da partenariati in cui sono presenti le università siciliane. L'altro 20% è costituito da partenariati dove accanto alle imprese sono nati e si sono rafforzati degli organismi privati di ricerca e ne abbiamo dei esempi importanti anche in questa città che appunto hanno la capacità di sviluppare iniziative nei svariati settori, settori e gli ambiti più… A proposito direttore, so che è una cosa a cui lei tiene particolarmente, su innovazione e ricerca ci sono sette assi sui quali la regione sta investendo, cioè avete fatto una programmazione divisa su sette assi, magari per sette ambiti, mi perdoni. Quali sono questi ambiti? Così anche magari chi ci ascolta capisce un povere interesse. Lei parla della strategia per l'innovazione intelligente. La strategia per l'innovazione è un documento di strategia che è stato richiesto, è un documento obbligatorio che tutte le regioni che aderiscono al programma operativo FAESDRE, al programma regionale FAESDRE, di cui devono dotarsi ed è una delle tre condizioni abilitanti che vanno raggiunte obbligatoriamente per dimostrare di essere pronti a spendere queste risorse comunitarie. Ricordo che il programma regionale siciliano nel suo complesso quota più di 5 miliardi di Euro per la fase 21-27 e questa strategia andava approvata ed è stata approvata alla Commissione europea prima dell'approvazione del programma ed è una strategia che individua in particolare gli ambiti di sviluppo e di intervento della ricerca dell'innovazione, gli ambiti prioritari. Questi ambiti prioritari sono l'agroalimentare, le smart city e le communities, l'ambiente è un nuovo ambito che è stato inserito che prima non c'era nella 14-20, abbiamo l'ambito della salute che è un ambito molto importante e fortemente sviluppato nelle ricerche di settore, abbiamo l'ambito dell'energia, abbiamo l'ambito dell'economia del mare, questi sono tutti ambiti che meritano di essere sviluppati, ma non perché lo diciamo noi, ma tutto ciò è suffragato da un documento di strategia che è venuto fuori da un incontro e da un'attività di ascolto che abbiamo fatto sul territorio interrogando e chiedendo al mondo delle imprese, agli stakeholder, agli università qual era la loro visione in termini di sviluppo. Per fare un esempio, noi non abbiamo per esempio cose che altre regioni hanno, cioè la scelta degli ambiti non è obbligatoria, nel senso vanno individuati, è chiaro che se mi arriva in Sicilia un investimento sull'aerospazio è un ambito che non abbiamo individuato, ma è evidente che non ci faremmo comunque sfuggire l'investimento. Mi perdoni direttore, ma dopo la sua elencazione a me veniva in mente che in realtà questi sette ambiti non fanno altro che replicare in maniera innovativa quelli che sono i punti di forza della storia e della tradizione della nostra terra, l'agroalimentare, penso l'economia del mare, forse siamo di fronte a una svolta epocale e c'è la volontà di coniugare la tradizione con la modernità. Abbiamo questa possibilità? Sì, è così. È notorio che la Sicilia non è una regione trainante nel settore manifatturiero, purtroppo non lo siamo, anche se il settore industriale è un asset importante in Sicilia, ma non siamo ai vertici della graduatoria nazionale, anzi siamo in ritardo da questo punto di vista, pur essendo l'Italia il secondo paese dopo la Germania e prima della Francia per il valore aggiunto prodotto nel settore industriale e in particolare nel settore manifatturiero. Così come lo sviluppo in Sicilia, se guardiamo gli ambiti di sviluppo industriale nelle nove province siciliane, noteremo che in alcune province si è sviluppata la chimica e si è sviluppato la metalmeccanica, tipo Siracusa, per esempio, e in altre province viceversa si è sviluppato il manifatturiero, in altre province si è sviluppato il settore delle edilizie, in altre il settore dell'estrazione dalle cave, ecco la Sicilia è da questo punto di vista assai eterogenea e questo può certamente essere un valore. Molte imprese, per rispondere alla sua domanda, stanno coniugando elementi della tradizione e faccio in particolare riferimento all'agroalimentare con una buona capacità di innovazione, sia di prodotto che di processo, cioè stanno introducendo… Che differenza c'è, mi perdoni? Perché non sono un aspetto… L'innovazione di prodotto è appunto, per prodotto si può intendere nell'agroalimentare non soltanto l'introduzione di un nuovo frutto. Cosa che purtroppo il cambiamento climatico non è da escludere. Quindi la produzione di nuovi frutti e quindi di nuovi prodotti trasformati, se poi li utilizziamo in chiave industriale. Perché chiaramente l'introduzione di un nuovo prodotto, c'è un prodotto che in questo caso nell'agroalimentare la filiera è lunga, è una filiera che parte dal settore agricolo e poi si completa con la trasformazione e quindi sia i cambiamenti climatici che nuove abitudini di consumo determinano l'introduzione di nuovi prodotti. Ma per esempio il prodotto può anche essere il modo con il quale noi presentiamo il prodotto nella grande distribuzione. Un tempo non esistevano le monoporzioni, oggi io che vivo a Palermo da solo spesso cerco monoporzioni ed è sempre più frequente che il produttore produca per un cliente che ha delle esigenze variegate. Lo vediamo anche dalla pubblicità. Quindi l'innovazione del prodotto è l'introduzione di un nuovo prodotto sia allo stato fresco che allo stato di trasformato sul mercato che tende a venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze di consumo. Il processo è il processo produttivo, cioè ciò che sta a monte per produrre quel prodotto. Quindi arriviamo anche alla tutela ambientale da questo punto di vista. Sì, la linea di produzione, la modalità che ci porta a ottenere quel dato prodotto. Ecco e su questo c'è molto da investire perché evidentemente c'è un'evoluzione tecnologica. Mi perdoni, c'è molto da investire perché avete delle grosse risorse finanziarie da mettere a disposizione del mondo imprenditoriale o c'è molto da investire perché molto va fatto proprio dagli imprenditori? C'è molto da investire perché i mercati chiedono sempre nuove produzioni e chiedono sempre un'innovazione continua. Torno a dire, i prodotti, anche i grandi brand, se facciamo caso a cos'era un brand 30 anni fa, a che cosa proponeva sui mercati anche grandi brand dell'agroalimentare, senza fare nomi, non c'è bisogno, anche sulle paste. Vediamo che c'è sempre più un orientamento a un qualcosa che sia più vicino al prodotto artigianale, la pasta trafilata in bronzo, cioè il prodotto che abbia una migliore performance dal punto di vista gastronomico e quindi una maggiore attenzione su un processo più artigianale che è industriale, questo lo notiamo, le varie linee, la segmentazione anche che troviamo, troviamo sulla pasta che è una commodities, vediamo che abbiamo paste a buon mercato ma che appena le mettiamo nella pentola si sfaldano e vediamo invece che abbiamo paste che tengono a lungo la cottura. Questi sono frutto di un grosso investimento che è stato fatto negli anni delle industrie e ancora prima sui campi, sia di innovazione, di miglioramento genetico e questo ha riguardato i frumenti, per quanto riguarda le paste e per quanto riguarda i processi produttivi a livello di catena produttiva. Oggi lei parlava della transizione, ha toccato il punto molto importante, queste risorse devono raggiungere altri obiettivi, la stessa strategia cita sostanzialmente tre obiettivi strategici, uno è la digitalizzazione delle imprese, l'altro è l'aspetto della sostenibilità e questi sono altri due elementi, la cosiddetta transizione gemella rispetto alla quale avremo tantissime risorse da spendere, grosso modo i due assi valgono un paio di miliardi di euro di investimenti. Quindi è una grossa opportunità per cambiare il volto a questa terra. Grosse opportunità e la terza… Ma non è che questa volta, visto che abbiamo delle micro imprese, ed è un po' quello che il mercato chiede, proprio rispetto anche alle esigenze del consumatore, parliamo dell'alimentare ma credo che valga lo stesso per gli altri settori, non è che forse questa volta potremmo dire che la Sicilia di fronte a queste chance è avvantaggiata rispetto alle altre regioni, il fatto di essere anche al centro del Mediterraneo, potrebbe essere veramente una chiave di volta? La Sicilia è un grosso mercato di consumo, noi siamo stati tradizionalmente, se sempre guardiamo, diciamo ci occupiamo di agroalimentare, noi siamo stati sempre un grosso mercato di consumo e oggi stiamo diventando e sono sempre di più gli esempi di aziende, anche agricole, che si stanno trasformando in industria, basti pensare al pomodoro, a tutti i derivati del pomodoro, molte aziende hanno iniziato a produrre un prodotto fresco che oggi è anch'esso una commodity, cioè un prodotto sostanzialmente che non spunta sul mercato un grande prezzo, viceversa trasformato, pensiamo alle salse del pomodorino di Pachino che sicuramente hanno creato più valore aggiunto e hanno consentito da alcune imprese agricole oggi di presentarsi anche sul mercato del prodotto trasformato e quindi di trasformarsi in industrie. questo tipo di processi io ritengo che la regione abbia il compito, è un assessorato come il nostro, l'assessorato per le attività produttive abbia il compito di accompagnare, noi accompagniamo questo tipo di processi, quindi stimoliamo questi processi a che si consolidino e a che le nostre imprese appunto introducono sempre di più questi elementi per diventare sempre più competitive. Una domanda, lei ha citato più volte il ruolo dell'università, c'è grande dinamismo anche a livello degli atenei siciliani, per esempio Catania è storicamente uno degli hub più importanti a livello mondiale dell'elettromeccanica, quanto conta per la mano pubblica poter contare su una struttura di ricerca efficiente come quella universitaria. Ma è fondamentale, dal nostro osservatorio le posso dire che capita sempre più di frequente, noi ci occupiamo anche se in piccolo, in maniera artigianale perché non abbiamo ad oggi ancora molte risorse umane da dedicare, cioè ci occupiamo di attrazione di investimenti, di attrazione di investimenti esteri e devo dirle che a breve daremo un'importante notizia, avremo ottenuto una multinazionale europea che ha deciso, quando loro definiranno sarà data non gliela faccio la domanda al giornalista, però questa in particolare è una multinazionale che opera nel settore dell'ICT e che ha trovato interesse, ovviamente anche per condizioni favorevoli di mercato, perché oggi è chiaro che un ingegnere in Sicilia si può pagare e può trovare una buona qualità di vita con uno stipendio medio, mentre è chiaro che se devi mantenere un ingegnere a Londra, per fare un esempio, vai fuori budget. Quindi puoi ottimizzare il sud, il sud dell'Italia, il sud del Mediterraneo, noi eravamo in concorrenza in questo caso specifico l'Andalusia, abbiamo vinto questa sfida competitiva perché hanno trovato, faranno l'investimento su Palermo, hanno trovato in Palermo delle condizioni favorevoli. Una di queste condizioni che ci è stata chiesta, sto introducendo il discorso per questo, è stata quella di avere un rapporto con l'università locale, perché loro hanno bisogno, tantissimo bisogno, una domanda molto importante, di ingegneri, o comunque di laureati o di diplomati nei licei di questi STEM da poter eventualmente formare, perché hanno un fabbisogno che devo dirle, la verità è addirittura superiore a quella che è l'offerta che oggi, la loro domanda è superiore a quella che è l'offerta che oggi possiamo fare. Però quando sono venuti hanno chiesto due o tre cose e una di queste cose hanno chiesto immediatamente un contatto con l'università locale, quindi l'hanno trovato, ovviamente hanno avuto una grande disponibilità all'università di Palermo in questo caso, ma le posso dire la stessa analoga cosa succede, capita Catania, capita Messina, capita Adenna, che sono le nostre università siciliane e devo dire che anche dallo sforzo che le università hanno profuso in questa fase di programmazione, le confermo che sicuramente c'è un dinamismo importante e certamente superiore probabilmente a quello di anni fa, quando il mondo accademico era un attimino più… Un po' distante dal mondo dell'impresa, è vero. L'università si è aperta, l'università si è aperta, ma anche il mondo della… I punti di contatto c'erano, io feci una tesi in un'industria privata già negli anni 90, ma oggi è molto più frequente, una volta era più… Direttore, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, è proprio volata via questa intervista. Io ho un'ultima domanda, non è lo sgambetto da giornalista, ma una domanda un po' più in profondità. Se lei potesse risolvere un problema, qual è la cosa che veramente oggi ostacola la piena realizzazione del mondo dell'attività produttiva in Sicilia? Cioè, qual è l'ostacolo principale che va rimosso? Ma faccio autocritica, nel senso io sono un burocrate, la burocrazia è certamente un ostacolo, nel senso dobbiamo lavorare per consentire quello che una volta si diceva un'impresa in un giorno, cioè oggi è certamente un miraggio, c'è troppa frammentazione, la nascita di nuova imprenditoria o lo sviluppo del settore imprenditoriale a volte ci rendiamo conto è veramente complesso, per un imprenditore fare imprese in Sicilia non è certamente semplice, la burocrazia e per burocrazia intendo tutto questo insieme anche di normative e queste competenze assai trastagliate, non agevolano, non agevolano certamente l'investitore e la prima cosa che una delle principali cose, se non la prima cosa che un investitore straniero chiede, dice ma in quanti giorni posso aprire un'impresa in Sicilia? Questo vale molto di più, questa risposta e riuscire a dare una risposta concreta vale molto di più da mettere a disposizione ingenti risorse finanziarie. Direttore io la ringrazio per l'onestà intellettuale con la quale risposta a quest'ultima domanda, ma so che le attività produttive sono in buone mani. Io ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio il dottor Carmelo Frittita, sicuramente ci vedremo quando arriverà questa multinazionale, saremo insieme, come dire, la inviteremo nuovamente per raccontarci questa nuova avventura imprenditoriale in Sicilia. Grazie ancora dottor Frittita e un saluto a chi ha seguito Talk Sicilia. Alla prossima puntata.